l'uomo volante etnologo guardò pensoso la penna di bimbrai hanno avuto l'aria di darla via con riluttanza disse è sacra ai capi disse il tenente così come la seta gialla è sacra all'imperatore della cina etnologo non rispose esitava poi affrontando bruscamente l'argomento cos'è quella loro panzana di un uomo che vola il tenente sorrisse leggermente che cosa le hanno raccontato vedo disse l'etnologo che lei non ignora la sua fama il tenente si arrotolò una sigaretta non mi dà fastidio sentirme la riferire un'altra volta come va attualmente che maledetta bambinata fece eletnologo stizzito come ha fatto ad arrivare ad intendere il tenente anziché rispondere si allungò meglio sulla sedia pieghevole continuando a sorridere io vengo qui spostandomi di 600 chilometri dalla mia direzione per raccogliere gli ultimi resti del folclore di questa gente prima che missionari e militari l'abbiano completamente traviata e trovo solo un mucchio di assurde leggende su un bischero di tenente di fanteria dai capelli rossicci e che è invulnerabile e che salta a piepari oltre gli elefanti e che vola questa è la frottola più tenace che hanno in testa un egregio vecchio mi ha descritto le sue ali che hanno le penne nere e sono lunghe un poco meno di un mulo e che egli lo vede spesso con il chiar di luna planare via oltre le creste verso il paese dei sandù che diamine militare il tenente risiedi gusto prosegua disse prosegua l'etnologo proseguì ma poi si stufò approfittarsi così disse della semplicità di spirito di questi figli delle montagne come ha avuto il coraggio di farlo piacente disse l'ufficiale ma mi ci hanno costretto sul serio le assicuro che mi hanno forzato a farlo e nel farlo non potevo sapere quali effetti avrebbe avuto sull'immaginazione chin non avevo alcuna curiosità di saperlo in mia difesa posso dire soltanto che fu imprudenza e non malizia che ho sostituito una leggenda nuova alle loro tradizioni popolari ma poiché lei sembra prendersela tanto a cuore cercherò di spiegarle come andò fu al tempo della penultima spedizione contro i lusciai e waters riteneva che quella popolazione dalla quale lei è ora stato fosse ben disposta nei nostri confronti così con sublime fiducia nella mia capacità di sbrigarmela da solo mi spedì su in ricognizione del sentimento popolare al villaggio che lei ha visitato ultimamente oltre 20 chilometri per una valle stretta tra i monti con tre uomini del reggimento del shire una mezza dozzina di sepois due muli e la sua benedizione in dieci non contando i muli più di 20 chilometri con una guerra in corso lei ha veduto la strada la chiama strada disse l'etnologo adesso è molto meglio quando salimmo noi alla stretta della valle dovemmo avanzare camminando nel fiume per un chilometro e mezzo contro la corrente impetuosa che ci turbinava intorno alle ginocchia e su pietre scivolose come ghiaccio fu là che mi cascò il fucile solo in un secondo tempo gli zappatori hanno fatto saltare la roccia a picco con la dinamite e hanno costruito la strada comoda che lei ha percorso poi nel punto in cui si presentano quegli altri strapiombi di roccia fumo costretti ai loro piedi a fare la spola attraverso il fiume l'avremo attraversato una dozzina di volte su tre chilometri di strada giungemmo in vista del paese la mattina dopo di buon'ora come lei sa sorge su uno sperone a metà altezza rispetto ai monti e non appena cominciò a colpirci la calma di malaugurio che regnava in quel villaggio silenzioso la in pieno sole si fece alta per deliberare quelli allora ci tirarono addosso l'ammasso d'ottone limato di un idolo forse amò di benvenuto venne sbattacchiando giù dall'erta a mandritta quella con i macigni mancò di pochi centimetri la mia spalla e abbatté il mulo che trasportava tutti i nostri rifornimenti ed attrezzi mai sentito un simile scampanio a morto né prima né dopo e nello stesso istante ci accorgemmo di tanti signori armati di fucile amicia vestiti come distrofinacci a scacchi che correvano rimpiattandoci lungo il costone tra il villaggio e il picco a oriente dietro fronte dissi e allargatevi senza farselo ripetere due volte il mio corpo di spedizione di dieci uomini invertì la marcia e si mise a un trotto vivace ridiscendendo la valle in questa direzione non sostammo a raccogliere nulla di quanto il nostro caduto portava però tenemmo con noi il secondo mulo trasportava la mia tenda e altre zanfrusaglie per puro affetto la battaglia così fu conclusa ingloriosamente dettando un'occhiata alle spalle potei vedere la valle punteggiata di vincitori che urlavano e si sparavano addosso ma non ferirono nessuno quei cing e i loro fuciloni valgono ben poco salvo per il tiro da seduti se ne stanno per ore a prendere la mira come pignoli oltre un macigno se sparano in corsa si tratta soprattutto di affetto teatrale hooker uno dei soldati del derushire si rusingava al quanto di essere un buon fucile e alla svolta rimase un momento indietro fermandosi a tentare la sorte ma non prese niente io non sono senofonte per snocciolare grantier come storia sulla ritirata del nostro esercito due volte nel corso di due chilometri successivi dovemmo arrestare il nemico che si faceva troppo incalzante sostenendo uno scambio di colpi ma fu una faccenda assai monotona e specialmente affannosa finché non giungemmo nei pressi del punto in cui i monti vengono avanti sul fiume e stringono la valle trasformandola in una gola e là avemmo la gran fortuna di intravedere una mezza dozzina di teste nere e tonde che arrivavano di sbieco oltre l'altura sulla nostra sinistra cioè a oriente parallelamente a noi visto questo ordinai l'alt sentite un po dico a hooker e dagli altri inglesi che cosa si fa adesso e indico le teste intercettati quanto è vero che non sono un negro disse uno degli uomini anneriremo anneriremo fa un altro riconosci i metodi dei cim george dove il fiume si restringe possono farci fuori dal primo all'ultimo a una distanza di 50 metri dice hooker continuare a scendere è un vero suicidio guarda il monte sulla nostra destra diventava ancora più rapido a valle ma pareva ugualmente valicabile e cin che avevamo veduti fino a quel momento erano tutti dall'altra parte del corso d'acqua o quello fermarsi dice uno dei se può quindi cominciamo a deviare su per il monte qualcosa che faceva pensare vagamente ad una strada ne percorreva in salita la parete e seguimmo quella più indietro in valle non tardarono ad apparire alcuni cin e udì spari poi vedi che un se può era rimasto seduto a terra una trentina di metri più in basso di noi si era semplicemente seduto senza aprire bocca a quanto pare per non causare fastidi ordinai di nuovo l'alt dissi a hooker di tentare un altro tiro e tornai indietro uomo era ferito ad una gamba lo sollevai lo portai avanti con me per caricarlo sul mulo che era già ben carico con la tenda e le altre cose ma mancava il tempo di alleggerirgli la soma quando raggiunsi il gruppo con l'uomo hooker reggeva il martini scarico e additava tutto sorridente una macchiolina nera immobile in valle tutti gli altri cin erano dietro i macigni o più indietro al riparo della svolta 500 metri fa hooker o al massimo un centimetro meno e giuro che l'ho colpito in testa gli dissi di rifarlo e con ciò ci rimettemmo in marcia la salita adesso diventava sempre più ripida a mano a mano che ci spingevamo innanzi e la strada che seguivamo diventava sempre più una semplice sporgenza finì che avevamo soltanto roccia a picco sopra e sotto di noi è la strada migliore che ho visto sinora nella zona dei cing usciai dissi per incoraggiare gli uomini ma già temendo ciò che stava per venire infatti dopo pochi minuti il passaggio girò intorno a uno spigolo dello strapiombo e buonanotte là il ciglione finiva appena resosi conto della situazione uno degli uomini del derbshire si buttò a imprecare per la trappola in cui eravamo caduti i sepois si fermarono silenziosamente hooker grugni ricaricò il fucile e tornò indietro alla svolta ora dopo essermi guardato attorno cominciai a credere che non eravamo stati proprio tanto sfortunati in fin dei conti eravamo su una sporgenza della larghezza massima di 10 metri circa sopra il dirupo strapiombava così che non potevano sparare su di noi dall'alto in basso e sotto c'era un precipizio quasi a picco di 60 o 100 metri o forse più stendendoci a terra eravamo occultati alla vista di chiunque dall'altra parte del burrone l'unico accesso era lungo il ciglione e su quest'ultimo un sol uomo valeva quanto una schiera eravamo in un caposaldo naturale con un solo inconveniente l'unica nostra provvista contro la fame e la sete era un mulo vivo non di meno ci trovavamo tutta il più a 13 o 14 chilometri dal grosso della spedizione e senza dubbio dopo un giorno poco più non vedendoci tornare avrebbero mandato qualcuno a cercarci un giorno poco più il tenente fece una pausa lei gram ha mai sofferto la sete non di quel genere disse l'etnologo noi l'abbiamo avuta per tutto quel giorno e la notte e il giorno dopo e la rugiada che riuscimmo a strizzare dai nostri vestiti e dalla tenda fu un'inezia sotto di noi il fiume gorgogliava gorgogliava intorno a una roccia in mezzo alla corrente non ha mai sperimentato un'assenza di fatti né un'abbondanza di sensazioni simili a quelle si sarebbe detto che il sole stesse ancora obbedendo al comando di giosuè a giudicare dal suo spostamento visibile e scottava poco meno che una fornace il primo giorno verso sera uno dei soldati del derbshire disse qualcosa non si capì cosa e se ne andò oltre lo spigolo del dirupo udimmo sparare ed era già sparito quando hooker andò a guardare sul far del giorno il seppua dalla gamba ferita delirava e saltò o cadde giù dalla scarpata poi prendemmo il mulo e gli sparammo ma anch'esso negli ultimi sussulti non va a cadere nel vuoto restammo in otto laggiù in basso potevamo vedere il corpo del seppua con la testa nell'acqua faceva bocconi e per quanto mi era dato vedere non era affatto fracassato con tutta la bramosia dei cindin possessarsi della sua testa ebbero il buon senso di lasciarlo stare finché non fosse calata l'oscurità da prima parlammo delle varie probabilità esistenti sul fatto che il grosso del nostro reparto avesse udito la sparatoria e calcolammo le probabilità che si impensierissero per il nostro ritardo e così via ma con l'avanzare della sera la conversazione fina ridì i seppua stavano tra loro facendo un gioco con i sassolini poi raccontandosi storie la notte fu piuttosto fredda il secondo giorno nessuno parlò avevamo le labbra violacee la gola in fiamme e rimanemmo sdraiati su quel terrazzo fissandoci l'un l'altro ad occhi sbarrati uno dei soldati britannici cominciò a scrivere sulla roccia con un pezzo di pipa di gesso un'empia baggianata a proposito delle sue ultime volontà finché non lo fermai se guardavo oltre il ciglio giù in valle vedendo le increspature del fiume ero quasi tentato di seguire il seppua sembrava piacevole desiderabile precipitare attraverso l'aria sapendo che sul fondo c'era da bere o comunque non c'era più sete però mi ricordai in tempo di essere un ufficiale con responsabilità di comando con il dovere di dare il buon esempio e ciò mi trattenne da una simile sciocchezza tuttavia pensando proprio a questo mi venne in mente un'idea mi alzai e guardai la tenda e le sue corde meravigliandomi di non averci pensato prima poi tornai ad avvicinarmi alla scarpata e diedi un'occhiata fuori questa volta l'altezza mi parve maggiore e l'atteggiamento del seppua alquanto più penoso ma quello o niente a farla breve mi lanciai con il paracadute ricavai dalla tenda un grande cerchio di tela circa tre volte più grande di questa tovaglia lo bucai nel centro vi legai intorno otto corde che si congiungevano nel mezzo per formare un paracadute gli altri stesi intorno mi guardavano con l'aria di credere che quello fosse un tipo nuovo di delirio poi spiegai la mia idea a due soldati britannici ed in quel modo contavo di realizzarla ed appena il breve crepuscolo lasciò il posto all'oscurità della notte tentai loro tenevano alto quell'affare e io presi la rincorsa su tutta la lunghezza della sborgenza quell'affare si gonfiò d'aria come una vela ma sul ciglio lo confesso mi mancò il coraggio e mi trattenni appena fermato mi vergognai di me stesso come ben si capisce in presenza di soldati semplici e tornato indietro ripartii questa volta saltai fuori con una specie di singhiozzo ricordo nel vuoto con una gran vela rigonfia sopra di me i miei pensieri dovettero sfilare a una velocità spaventosa il tempo prima che fossi sicuro che quell'affare aveva la buona intenzione di tener duro parve infinito da prima pencolò di lato poi notai la parete di roccia che pareva sfrecciare verso l'alto mentre a me sembrava di stare fermo poi guardai in basso e vidi nell'oscurità il fiume e il cadavere del sequa che mi si precipitavano incontro ma nell'indistinto chiarore scorsi anche i tre cin evidentemente atterriti alla mia vista e notai che il sequa era decapitato nel veder questo desiderai tornare indietro poi il mio stivale fu in bocca ad uno e in un attimo fummo lui ed io un solo ammasso con la tela che si afflosciava su di noi credo di avergli fatto schizzare le cervella con il piede contavo che gli altri due stessero per farlo esaltare a me ma quei due poveri selvaggi non avevano mai sentito parlare di Baldwin e immediatamente scapparono a gambe elevate mi tirai fuori con difficoltà da quell'intrico di cin morto e di tela e mi guardai attorno a una decina di passi più in là stava la testa del sepois che fissava il chiar di luna poi vidi l'acqua vi andai e bevetti non si udiva altro rumore al mondo all'infuori dei passi dei cini in fuga di un debole grido dall'alto e del glu glu dell'acqua appena ebbe bevuto a sazietà partì giù per il fiume a questo punto la spiegazione della storia dell'uomo volante si può dire conclusa per tutti i dodici chilometri di cammino non incontrai anima viva raggiunsi l'accampamento di walters alle 10 di sera e un idiota nato che era di sentinella mi sparò addosso vedendomi apparire quasi di corsa dall'oscurità appena riuscì a far entrare il mio racconto nel cranio duro di walters una cinquantina di uomini si misero in marcia risalendo la valle per togliere di mezzo i cin e riportare giù i nostri quanto a me la mia sete era troppo considerevole per istigarla ancora accompagnandoli lei ha sentito che razza di favola ne hanno tirato fuori i cin ali lunghe come un mulo e penne nere l'allegro tenente uccello bene bene il tenente rimase un momento a ripensarsi divertito poi soggiunse lei può stentare a crederlo ma raggiunta finalmente la piattaforma di roccia trovarono che anche due sepois erano saltati nel vuoto e gli altri uomini stavano bene chiese l'etnologo stavano bene sì rispose il tenente salvo una certa sete sa e nel ripensarsi si versò un altro risquito whisky e soda Grazie.